Ci troviamo al Nuovo di Via Olimpia, oggi è lunedì, sesta giornata di andata del campionato provinciale giovanissimi, gironechini, oggi scenderanno in campo la Virtus Castelfreddano con la divisa bianco con risipolti giallorossi, proprio per la prima volta intosseranno detta maglia, che sarebbe la seconda maglia, in quanto la prima ha i colori tradizionali giallorosse, questo è stato concesso dallo sponsor Fratelli Memmo, previsione di Lanciano, si stanno riscaldando i ragazzi, anche se c'è il sole in qualche nuvola, fa freschetto, temperatura, al di sotto dei 10 gradi, penso sui 7-8 gradi, si stanno riscaldando gli esercizi di riscaldamento dei nostri ragazzi, mentre a questo lato c'è con la classica divisa rosso-verde, ci sono i ragazzi del Ripa 2007, 2007 con il loro mister, la gara inizierà alle ore 15, poi ci sono i ragazzi del Ripa 2007, questi ragazzi si stanno riscaldando, con la classica divisa bianca con risvolti giallorossi, pantaloncini bianchi, calzettoni gialli, nuova divisa, la prima volta che indosseranno questa divisa, da quest'altro lato ci sono i ragazzi che partiranno dalla panchina, in porta abbiamo il solo Daniel in quanto manca Dinella, come portiere, abbiamo di fresco Franco, Gabriele adesso che sta con il pallone, che ha tirato in porta, abbiamo pellegrina Simone, abbiamo di fresco Matteo, non mi ricordo l'ultimo, mammarella Alex, non broglie sempre, è lui o non è lui, è lui e non è lui, da quest'altro lato la formazione tipo, c'è qualche defezione oggi, c'è mister Giovanni, da quest'altro lato abbiamo l'Arnè, Nicolò, Alex, Di Donato, Federico, Manuele, Alessandro, Luca, Fabio, Riccardo e Tenaglia, qua, tenaglia, manca oggi, manca Pitbull, non ci sa, non è venuto, riscaldatevi ragazzi, ah c'era, è venuto anche il nostro responsabile tecnico mister Gabriele, tutto a posto? Sì sì, tutto a posto, bene bene, si viene a vedere anche questi giovanissimi, continuiamo la nostra crescita sotto tutti i punti di vista, bene, buon lavoro a tutti, in bocca al lupo ragazzi, qua abbiamo il nostro consigliere dirigente Adriano Gian Cristoforo, ha due palle in mano, due palloni, ecco fra poco ci sarà l'appello, dopo si scenderà in campo, a fra poco.